Avete bisogno di ripassare un po' di sana matematica durante le vacanze? Oppure vi servono un po' di esercizi per riuscire a superare gli esami universitari? Io ho la soluzione perfetta per voi e ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess! Equazioni, matrici, logaritmi ed integrali sono spesso un duro scoglio per gli studenti. A volte però tutto ciò di cui hanno bisogno è una spiegazione differente o qualche esercizio in più. Proprio per questo è nato Red Hook, una piattaforma realizzata per imparare la matematica in maniera innovativa. Red Hook usa infatti un linguaggio naturale che si adatta a bambini, adolescenti ed adulti permettendo loro di assimilare anche i concetti più difficili. Ma come funziona? Prima di tutto è necessario registrarsi e creare il proprio profilo. Dopodiché potrete iniziare a consultare l'enorme archivio di Red Hook. Il sito web ospita infatti tutto il programma delle scuole medie, superiori e dell'università e mette a disposizione più di mille video-lezioni. Avete bisogno di rivedere le equazioni oppure di approfondire le potenze? Vi basta cercarli all'interno del campo di ricerca ed aprire la lezione che fa per voi. Una volta terminato il ripasso, potete provare gli esercizi messi a disposizione da Red Hook per vedere se avete davvero assimilato i nuovi concetti. Ogni esercizio e ogni lezione consente agli studenti di Red Hook di guadagnare punti così bambini e ragazzi potranno gareggiare contro i propri compagni di classe. La stessa cosa naturalmente vale anche per gli studenti universitari. Qui non solo potranno trovare un valido supporto allo studio ma anche confrontarsi con i compagni di corso per scoprire chi se la sta cavando meglio. Red Hook quindi è lo strumento ideale per tutti coloro che hanno bisogno di migliorare le proprie conoscenze matematiche, ma non solo. All'interno della piattaforma sono presenti anche sezioni dedicate alle prove invalsi e alla maturità. La sezione consigli per studiare invece è stata pensata per adattarsi a qualsiasi tipo di materia ed include una serie di suggerimenti utili per tutti gli studenti. Qui trovate infatti indicazioni su come memorizzare più velocemente i concetti, su come gestire il rientro a scuola e su come affrontare le temute interrogazioni. Infine vi segnalo che Red Hook è disponibile anche sotto forma di applicazione ed è scaricabile gratuitamente sia dall'App Store che dal Google Play Store. In questo modo sarà possibile esercitarsi e ripassare in qualunque momento, persino mentre prendete il sole in spiaggia o vi rilassate a bordo piscina. Direi che anche per oggi è tutto, io vado su Red Hook per diventare un genio della matematica o forse è meglio che ripassi le tabelline. Voi intanto ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao! Ciao!